Bentornati e bentrovati al vostro turno in autobattro, siamo di nuovo in un turno smite news Siamo con riassunto della patch 10.2 Velocemente vi ricordo, c'è stata questa cosa qua se non lo sapete Se fate 3 first win of the day Ottenete 3 vittorie del giorno, ottenete i cosmetici della manticora Che so, una ward, un avatar chiamato, ricordo la manticora E decisamente era più bella sta manticora qua che quella che c'è sta adesso Però vabbè, allora, questa è la patch del re delle manticore Quindi salterò ovviamente la parte del god Perché ne ho già parlato nel scorso video E se ne parlerà quando arriverà proprio il god stesso Questa patch arriverà il 21 febbraio, quindi settimana prossima Con tutta la patch è un po' scarsina per quanto riguarda alcune cose Non ci sono novità all'interno di Conquest, non ci sono novità della mappa Siamo ancora nella stessa stagione di prima Quando arriverà probabilmente il prossimo god Che inizierà la stagione, come si chiamava? La stagione della speranza, non l'ho idea Però comunque quando inizierà quella stagione lì Arriveremo, probabilmente arriverà il primo update Pesante, quindi Allora, iniziamo velocemente con le skin Allora abbiamo ovviamente le skin del prossimo personaggio Di Marticoras, di Martink Abbiamo le mastery, abbiamo la shender Che è praticamente viola E abbiamo l'Imperius che è la recolor stand Che dovrebbe essere, credo, bianca Non neanche mi interessa Poi abbiamo Gilded Glory Ishtar Che è una skin della serie, della reccomandazione Come quella di Sobek La reccomandazione del Good Behavior Ovvero quello che praticamente se sei stato bravo Se non sei stato mai bannato Non t'hanno mai fatto Se non hai mai fatto eccetera eccetera Quelle cose lì Ti danno una di queste skin C'era quella di Baron Sunday Quella di Sobek Insomma è poco però Sono skin che sono semplicemente recolor Che hanno bianco e oro come strumento Come cosa Giusto per darti un contentino Come stavolta con Isha Che devo dire non ci sta male con questo bianco e oro E Ora Continuiamo con le skin Allora innanzitutto ci sarà la seconda parte dell'evento di Magic Questa volta le skin sono più belle secondo me Abbiamo la seconda parte di Magic E abbiamo Teferi Kronos Nicolas Bolas Tiamat E se sapeva che era Nicolas Bolas Tiamat Perché c'è sta solo un drago all'interno E non puoi far di certo un nano Vabbè Vivian Raid Artemis Non so chi sia questo personaggio Ma la skin non è male Credo che sia un Un Planeswalker verde Però non lo conosco The Wandering Emperor Mulan Non ho idea chi sia che Planeswalker sia Nissa Ravene Questa lo so chi è Isette È probabilmente il mio secondo Planeswalker preferito Insieme a Marduk 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 Ah Marduk Garruk No Garruk Garruk Scusatemi Poi abbiamo quelle skin che sono di fuori di Magic Abbiamo Bubble Bee Jingwei Della famiglia sempre Della famiglia sempre delle api Come Nox Cosa così E Sears Nunes Cumbacarna Che Penso sia sempre Della famiglia Dei Mafiosi Quella tipo quella di Kusembo Quella di Sobek E un'altra Non mi ricordo chi E quindi Insomma ci sono varie varie cose Allora Ovviamente Ci sono una marea di cose nuove Per il secondo parte dell'evento di Magic the Gathering Abbiamo anche una novità importante Ovvero La Il Mythical Market Che pure quest'anno copiato da League of Legends Ma vabbè E' praticamente un negozio per Per il giocatore Semplicemente E' un negozio dove ci sono Vari sconti specifici Per il giocatore Ehm Che ogni giocatore Praticamente avrà un nuovo bundle Che avrà La skin di Bumblebee Jingwei Un avatar E Una skin per la fontana Ogni volta E Oltre a questo bundle Questo dentro Questo mercato C'è sta Un set Addizionale Di bundle Che sono Basati sulle tue preferenze E saranno tutti tipo a scontati Ma bisogna vedere quanto cazzo so scontare Voglio provare Guarda E Tutte questi bundle Possono rinchiudere Skin esclusive Skin normale Cosmetici Rilasciate prima dell'update 8.8 A un pezzo scontato Quindi pensate Ben due stagioni fa Contano Manca di Quelle di adesso Vabbè Allora Cominciamo un altro aggiornamento L'year Ehm Anno 10 Ehm Il viewer store Allora Io vi ricordo Che all'arrivo del 21 Questi spariscono Capito I punti Della skin I punti delle skin Spariscono ragazzi Quindi Se Non li avete Dovete Se li avete Non Li state conservando Per qualche motivo Lasciate perdere Perché non potete Tenerli praticamente Ehm Quindi Insomma Fate un po' voi Ehm Non Sinceramente Non mi interessa Nessuno di queste Ruotano in 4 giorni Però Ehm 1 2 3 4 5 No Non ce la fate ragazzi Questi sono quegli ultimi Che ci stanno proprio Quindi Non saprei dirvi Tenermeli Tenermeli Insomma Fate un po' voi Insomma Se volete Se ce la vede Usateli Perché tanto scompariranno Verranno risettati del tutto Ehm Il nuovo set Allora Non ci saranno più Pass Praticamente Per guadagnare il doppio dei punti Non saranno più esistenti Guadagnare tutti gli stessi punti Gratuitamente Per aiutare Per guadagnare più velocemente Potete fare le seconde cose Ehm Per guadagnare più di più Hanno fatto le seguenti cose I drop adesso danno 2000 punti in più Per drop Ehm Ci sono stati aggiunti Nuovi Punti Di viewer Dentro le tracce Free Gratuite E premium Dei battle pass E Altri beer points Saranno aggiunti Grazie Tramite eventi Quest evento Durante l'anno Praticamente Allora Ehm Insomma niente Niente altro No stavo leggendo velocemente Allora Dice soltanto che Tutti i punti sopra I 75.000 punti Saranno But tolti Quindi tecnicamente Io sto ancora salvo Credo Non ho capito se tolgono tutto Niente Però comunque Penso di spendere E togliere di mezzo Tanto Comunque Non mi interessa Qua per esempio Non si può fare Dunque Quindi Poi Passiamo avanti Ehm Quali di fly Ci sono stati Aggiornamenti Sulle cose Delle Nuove Yard Sulle UI Eccetera eccetera Poi abbiamo Qualche Vari bug Fixed Ehm Qualche cosa Importante Vediamo Scusatemi E che in camera In casa mia C'è tanta Di quella polvere Per via dei lavori E quindi Vari bug Del tipo Fargent Se poteva colpire Al di fuori Della sua Del suo La sua zona Ehm Una cosa importante Una cosa interessante E' che dice Che al centro Della mappa Adesso Del pit Del fire giant Non ce la puoi mettere La ward In realtà ve l'ho fatto Un paio di volte Questa cosa Però avrebbe senso Perché non funzioni più Vari bug Li sto leggendo al volo Li sto leggendo al volo La maggior parte So però Comunque ragazzi Ehm Vari tipo Hanno aggiunto test Agli strumenti nuovi Alcune cose E hanno riammesso Di nuovo La ward flag Praticamente Hanno riammesso La ward flag Che l'avevano tolta E Aggiustata Del tipo Perché si attiva Due volte Ora Passiamo All'abilanciamento Con questo Ok Allora Il Questo è stesante Adesso il titan Colpisce ad aria I nemici Con i suoi attacchi Questa è una puttanata Perché adesso Il titan Sarà ancora più difficile Sarà più difficile Perché Tivante bastava Un'ondata di minion E c'avevi il tempo Di evoluare Adesso no Perché può colpire Più minion insieme Poi Alla Al buff verde La triade principale Quella che tiene il buff Ha un'abilità adesso Che curerà Tutti I I campi Tutto il campo Praticamente Il campo alleato Di 20 di salute Al secondo Più 10 10 di hp5 Però dice che Non si cura Se stessa Quindi cura Solo i suoi alleati Vabbè Firegiant Hanno testo Sta cosa Che adesso C'è una specie Di muro invisibile Che blocca Il posizionamento Delle ward Ma consente di Praticamente Passare Mirare con le abilità E cose così Non c'è senso Sta cosa Delle ward Io come uso la ward Scusami Il firegiant Se quello va dentro La pitta Io non ci posso mettere La ward Che faccio Cioè Non la fessica Per forza Hanno ridotto Il tempo di spawn E poi il romanza Era 7 minuti Il buff blu Non evoca più I minion I spiriti Minion spirito C'ha senso Perché Capo da 3 Diventava un capo da 5 Adesso Il buff verde Da 10 di mp5 E il totem Hanno ridotto Un po' la grandezza Del totem In effetti È un po' troppo grande Passiamo All'istromanda Mi dia un god Per cortesia Va bene Anche surto Sì Ancora non l'ho masterizzato Ma non sto giocando Precamente Allora Eccolo qua Allora Druiston Ha aumentato il prezzo Ha aumentato il prezzo Però Non è aumentato Quello Delle sue Versioni Potenziale Stone of Binding Hanno ridotto Il debuff Praticamente Ehm What Allora Non ha senso Perché qua c'è scritto Ridotto Il debuff Alla protezione Più 1 per livello 5 più 1 per livello È quello che c'è scritto Qua A 0 più 1 per livello Ma sempre 0 Raga What Si saranno probabilmente Sbagliate a scrivere E non hanno scritto Questo Cioè Non lo so La controllassero Prima di fare ste cose Contagion Allora Questo strumento Era OP Perché Ti dava Tantamente tanti danni Nel tempo Che era praticamente Una mystical Ora Hanno ridotto I danni di questa passiva Della passiva Che fa Ondate A 25 Quindi hanno ridotto Questa passiva Ehm Poi Hanno aggiustato Hanno fatto sì Che adesso Tu puoi avere Solo uno strumento Simile alla Contagion Che infligge un'aura Così Per tempo Per volta Quindi non è che Ti puoi fare Come facevano La mystical Più la contagion Ed eri Potentissimo Se un personaggio Un giocatore Ha un'aura Infligge Che ha un'aura Negativa Che fa danno Come la contagion La mystical Infligge un Crowd control pesante Un'art Crowd control L'aura Viene refreshata Questo è pesante Come cosa E Poi 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 L'aura Non Praticamente Non ticca Ogni Agli effetti Deccisi Praticamente Messe invece Un secondo Due secondi Tre secondi Di tipo Ci hanno dato un tempo Poi hanno aggiustato Il fatto del quinto impulso E poi ci hanno aggiunto Una specie Un suono Specifico Proflatic clock Lo strumento Più rotto Del gioco In realtà Allora Da una parte È rotto E c'ha senso C'è vero È proprio rotto Però hanno fatto sì Che Era un po' Rotti le scatole Da Caricare E quello è il problema Per esempio Baba Yaga Non lo fate su Baba Yaga Questo strumento Perché tanto Non ve la carica adesso L'aggiusteranno Tra poco Alla prossima patch Era un po' Una rottura di palle Caricarlo Perché bisogna Attaccarlo Cioè vuole un po' Devi rifarlo Lo devi rifare Riattaccare 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 Eto Ovviamente Voi non avete Comunque Il probleme è che Avete la cosa Di ogni 10 secondi Quindi non è così Facile Caricare Così Sto strumento Però hanno fatto sì Adesso hanno ridotto Il cooldown Di questo effetto A 8 secondi Però hanno fatto sì Che Ti Ci metti meno Tempo Diciamo Però guadagni Di meno Quindi hanno ridotto Quanto guadagni Di protezione fisica E magica Quando si evolve Ho capito? 40 e 40 Non vi dico il punto Non volevo darvi il numero Per evitare Vi ho detto Non li dico più i numeri Così evito Di Incasinarmi io E di Scelperarvi voi Sigil of the old guard Cioè Questa Allora Hanno ridotto La damage medication base Anche la damage medication Che si guadagna per carica Per un totale di Ok Più hanno ridotto L'ealing per carica All'1% Della tua salute massima Eh È un peccato Perché era molto utile Così potente Crusher Dove sta Crusher? Da qualche parte sarà Eccolo qua Allora Crusher Un bel Nerf Più buff Strano Sembra misto In realtà Allora ridotto il suo costo Ridotto il suo physical power E anche lo scaling Della passiva Ok Era c'era senso Era abbastanza OP Come strumento Eh Poi 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 Ora io questo Non ve lo posso far vedere Perché è uno shard Quindi come cazzo faccio a farvelo vedere Non posso Quindi Dovrete sentire la parola Horn shard Quello che riduce cooldown Aggiustato il test di questo strumento Che non specificara Eh Crocodile Rated Action Per 0.5 secondi 3 secondi Non ogni secondo Come c'è scritto Nella patch Praticamente In realtà Questa funzionava molto meglio Questo strumento Di quanto sembrasse Kinsai La pagina La puoi vedere tu Kinsai Dio che palle Sta cosa Bello vedere Il Kinsai Tornare ogni tanto Eccolo qua Kinsai Aumentare la Solo velocità Di attacco Che dà E aumentata Anche la passiva Uh Buono Baffata anche La passiva Bladed Moveran Che non mi pare Stia venendo usato Per niente Praticamente Ridotto il suo costo Aumentare la solo velocità Di attacco Ridotto anche Quanto Praticamente Hanno ridotto Quanto è Il vicino La passiva Praticamente Ad esempio Questo strumento funziona Che quando fai un crit E quando colpisci un god Ti rimane per terra Un deployable Praticamente Che quando lo raccolti Dà velocità di movimento E chance di critico Ti stacca fino a tre volte E può succedere Ogni due secondi E che hanno fatto Sì che adesso Sarà il 50% Più vicino All'utilizzatore E hanno aggiustato Anche Il testo Prima di passare Al magico Passiamo velocemente Al brawler Perché sennò Tocca di cambiare Brawler Allora Ha ridotto il suo costo Ha aggiustato Il testo Che dice Che dura 10 secondi E aumentato Il power Buff Che dà Praticamente Base Wow Tanto Ora si torna un attimo Alla clock Perché non l'hanno messa insieme A quella cosa lì Non lo so Stronzi Vedo Non l'ho fatta Tanti dietro E ridotto il suo costo E basta Cannonier Curis Corais Vabbè è un'armatura Non so come si dice Curis Però conosco So che cos'è Un'armatura Ridotto il suo costo Doorbringer Ridotto il suo costo Che è questa qua sotto Absolution Wow Quanti strumenti nuovi Che stanno baffando Sta come mai Forse perché la gente Non si usa Eh cos'è Eh Ah Ops Scusatemi Mi è cascata La scarpa Eh Ha aumentato la sua Magica Protezione magica E il crack control Redaction Buono Phalanx Questo è l'ultimo strumento Ah no Non è l'ultimo Devo passare un attimo Il magico Ha aumentato Physical protection E la salute che dà Poi si passa velocemente A un personaggio magico Che semplicemente hanno Baffato un attimo Il Kronos Pendant Vabbè Hanno aumentato Magical power Il Kronos pendant Ma famo prima Raga Favamo prima Era solo l'unica Era l'unica voce magica Di tutto il gioco Letteralmente Di tutta la cosa E te credo Gli altri strumenti Sono tutti Adesso Tutti gli strumenti Sono diventati Sono diventati Ibridi Quindi non c'è Sta più la cosa Magica fisica Così tanto Tutti gli strumenti Ibridi Allora Passiamo ai code Velocemente Allora Wild storm Di Aokwang Ridotto lo scaling Ibo Nerfato Ridotto il danno Aspetta che ci devo andare Che palle Ibo 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 Bo 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 Water Sprout Questa qui Ridotto il danno Base E anche lo scaling No ma non Nerfato di Scordia Bastardi Sai che si Ah no Baffato Attenzione Ridotto il cooldown Di questo Della 3 Più aumentato Il danno Base Del colpo Iniziale Della ulti E anche lo scaling Di quel colpo Iniziale Dai Dai Anche Gebb Baffato Ma chi hanno Baffato i danni A Gebb Ma che cazzo Ridotto il cooldown Di questa abilità E aumentati i danni Base Ma che scema Perché Non c'aveva Non era Questino di danni Era una questione Di utility Su Suguyomi Buff Ah perfetto È poco potente Quel coso Ancora stanno a Baffarlo Shudder Shudder Ha aumentato Il danno Scusatemi Ha aumentato Il danno Dello shuriken E ha aumentato Lo scaling Del dash Della ulti Praticamente Quando scatta Oii Ha aumentato Baffata Anche Jingwei Che gli hanno Potenziale Eccola qua No Ha rompato Potenziale I danni Per Tick Che fa questa abilità E il suo cooldown Per livello Pesante E ultimo Ma non ultimo C'era Ma un ordine alfabetico Che faceva schifo Non lo so Devo fare su e giù Ridotto il costo di mana Della sua seconda abilità Più ridotto il costo di mana E cooldown Della terza abilità E si conclude qui Allora Interessante Hanno buffato Parecchi strumenti Di quelli nuovi Ovviamente Perché probabilmente Non c'hanno molta Utilità adesso Secondo me Cioè Penso Penso più che altro Per dire Ok non li stanno a comprare Dovremo renderli appedibili Presumo Di solito è così la gente La cosa come funziona E niente Allora Questo era il risulto Della patch Che poi non era più Riassunto Perché arriviamo a 40 minuti Dei video Quindi mi disfigare Come ho fatto A fare l'assunto Ci vediamo Al prossimo video In questo canale Fatemi sapere la vostra E ci vediamo Al prossimo video Per ragazzi Vi vedo un gap Da mano Spacca in meno modo Bye bye Ciao a tutti Ciao a tutti